Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video Allora, ho appena girato il video di come ho sistemato io la mia più o meno scrivania come era il disordine Adesso mi lascio al video video postazione aggiornata quando ho cambiato come vedete il colore della camera e quindi ho sistemato anche la postazione Quindi io mi mando un bacione, spero che il video vi piaccia, lasciate un pollice in su e ci vediamo al prossimo video, ciao 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 Ciao